Il primo roadshow della campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione voluta dalla regione siciliana sull'uso consapevole dell'acqua. Risparmia l'acqua arriva a Caltanissetta. Ad ottobre ha visto come prima tappa Palermo, poi Catania, Messina, Raguse, Enne e adesso arriva nel capologo Nisseno. A novembre raggiungerà le altre città siciliane. Esperienza immersiva per apprendere le buone pratiche e risparmiare l'acqua. Il risparmia l'acqua, il progetto della regione siciliana attraverso il Dipartimento Acqua e Rifiuti, incontrerà i giovani e lo farà sfruttando i loro linguaggi, la tecnologia, le tecniche VR, EduGame, proprio per avvicinarsi a loro, facendo vivere un'esperienza interattiva attraverso la quale potranno avere informazioni sul corretto uso della risorsa idrica, sensibilizzarsi sul tema che tra l'altro loro conoscono molto bene, stiamo appurando, già a scuola vengono formati, però qui ecco vivono proprio un'esperienza che tocca i loro sensi, suoni, giochi, colori, video, sono proprio i linguaggi che loro hanno cari e quindi sicuramente la formula stiamo riscontrando che funziona. Si impara giocando, così in corso Umberto I dalla mattina di oggi e fino a domani all'interno del track le prime scolaresche hanno potuto fare dei giochi a tema sul risparmio idrico, hanno anche ricevuto dei gadget per ricordare che il bene più prezioso è l'acqua.